A sei giornate dal termine il campionato di calcio è sempre più incerto. La Juventus guida con un punto di vantaggio sul Milan ma mostrando una grande autorità. C'è una netta differenza tra la vittoria difficile e sofferta del Milan sul Chievo, gol 1-0 segnato da Montari nell'anticipo di campionato, e invece la vittoria per 2-1 della Juventus sulla Lazio nella giornata di campionato che si è disputata ieri sera. È stata una Juventus molto autoritaria che è andata ben oltre il risultato finale del 2-1. È vero che ha sofferto più del previsto per piegare la Lazio, ma è una Juventus che a tratti è stata davvero travolgente, come non era stata nemmeno nei momenti migliori della sua stagione. Questo la dice lunga sulla determinazione della squadra di Conte di arrivare allo scudetto. Oltretutto questa squadra sta scoprendo un giocatore davvero fantastico che è Vidal, che sta rialzando il tono tecnico di una squadra, avvicinandola davvero a quel Milan che era stato indicato da tutti come un parametro difficile da eguagliare per la Juventus quanto a tecnica e qualità di gioco. Il Milan è vero a Ibrahimovic, a Zedorf, a recuperato Cassano, a tanti fuori classe, compreso Robigno, nella zona d'attacco. Ma la Juventus adesso non solo è forte del suo gioco e della sicurezza che Conte gli ha dato, ma ha anche dei fuori classe da giocare, perché oltre naturalmente a Pirlo e a Vidal, c'è questo Del Piero che gioca part-time, che è stato ancora una volta determinante nella partita contro la Lazio, ha segnato un calcio di punizione astutissimo che ha dato di fatto la vittoria alla Juventus. C'era stato anche un magnifico gol di Pepe per il vantaggio bianconero con aggancio in area e bellissima girata, e poi il pareggio temporaneo della Lazio con Mauri. Questa Juventus è rilanciata dal suo Del Piero e con la forza d'animo che gli ha insegnato Conte può davvero arrivare allo scudetto, a patto che non arrivi una flessione improvvisa o una capitolazione, ma difficile pensarlo per una squadra che è giunta a 31 risultati senza mai perdere.